Positive le piazze finanziarie europee in chiusura di contrattazioni. Oggi era atteso l'intervento del successore di Janet Yellen alla Federal Reserve, Jerome Powell, che ha parlato di un'economia americana in salute, giudicando le condizioni utili all'atteso rialzo dei tassi di interesse di dicembre. In questo scenario Londra ha chiuso in progresso dell'1,04%, Parigi ha segnato più 0,57%, Francoforte più 0,46%. A Milano il Fuzimib ha messo a segno un rialzo dello 0,52% e l'all share dello 0,5%. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione volano Italgas più 2,55% e Mediaset più 2,16%. In calo CNH Industrial meno 0,83%, Telecom meno 0,64% e FCA meno 0,55%.